E' stato il giornalista Carmelo Abbate l'ospite di spicco della seconda giornata del settembre culturale di Agropoli. Manifestazione giunta alla sua undicesima edizione che si tiene presso il castello Aragonese. Abbate, intervistato da Anna Maria Peto Licchio, ha presentato il suo ultimo libro Gli uomini sono bastardi, dieci storie nere e perfettamente italiane. Non significa che tutti gli uomini sono bastardi, significa che il problema riguarda tutti gli uomini e che nessuno si può sottrarre. Si tende sempre a pensare che sono storie che accadono in un pianeta a noi lontano, mentre in realtà io voglio proprio dire che è un problema che riguarda tutti noi. Lei è un giornalista, uno scrittore, ma anche un uomo. Con quale stato d'animo ha scritto questo libro? Con lo stato d'animo di chi si è posto il problema di che società, di che mondo troveranno le nostre figlie femmine quando fra qualche anno attraverseranno le strade e le piazze della nostra città. Se il fatto di essere magari imprudenti e di avventurarsi in una piazza dove ci sono uomini come un branco di lupi affamati, alla fine in qualche modo se dovessero pagare gravemente questa colpa, se la colpa sarà loro o sarà degli uomini? Cioè la colpa è dell'imprudenza della donna che mette la mano nella vasca piena di piragna o della vasca di piragna? In questo libro il sesso debole è quale? La donna o l'uomo? Il sesso debole è l'uomo assolutamente. Il presente, la società è della donna. La forza della donna porta l'uomo a rivalersi con l'aggressività e la violenza. Io penso che il futuro è della donna. Penso che già oggi in qualche modo è la donna. E' proprio il cambiamento dell'atteggiamento della donna, la fine della sudditanza che determina tutto ciò.